La procura della Repubblica di Gorizia ne ha sequestrate 60 milioni lo scorso 30 marzo, ma le mascherine, 12 modelli di FFP2 e FFP3 di importazione cinese, ritenute non conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute, sono almeno 250 milioni. Un lotto è stato sequestrato anche a Canzano. A darne notizia è stato il sindaco Luca Malvestuto che si è accorto che le mascherine distribuite alcune settimane fa dalla protezione civile appartengono allo stesso lotto finito nel vortice dell'inchiesta della procura goriziana. Si avvisa la cittadinanza che anche le mascherine distribuite dal comune di Canzano, avute dalla protezione civile tramite la struttura commissariale, secondo una recentissima inchiesta della procura di Gorizia, risulterebbero non conformi. I cittadini quindi sono invitati a non usare, a scopo precauzionale, tali mascherine, scrive il sindaco. L'ultima distribuzione risale lo scorso 23 febbraio, quando Canzano fu posto in zona rossa light, assieme ad altri comuni. I dispositivi sono quindi stati utilizzati dalla popolazione, senza alcun effetto negativo, ma il sindaco, dopo l'inchiesta a partire da Gorizia, ne ha dato subito comunicazione. Mentre la Guardia di Finanza sta cercando di rintracciare i restanti 185 milioni di pezzi che sono ancora in giro per il paese.